Diciamo che ha completato le emozioni di questa settimana perché da quando andiamo magari a fare spesa la gente ci riconosce dai bambini alle signore che non avevano mai guardato la pallavolo essere ricevuti e non in maniera formale ma con compassione, con conoscenza perché il presidente ci ha dimostrato veramente attaccamento sia al nostro sport sia alla squadra, è stata un'emozione particolare e quindi un riconoscimento che ci fa enormemente piacere. Credo che quello che è stato detto sulla squadra, che questa squadra ha futuro, ha futuro, ha futuro, è vero solo se ci immergiamo nel presente, in quello che stiamo facendo perché se spostiamo l'attenzione altrove rischiamo di perdere la bellezza di questo percorso e soprattutto l'importanza di vivere la realtà di tutti i giorni che sarà adesso per loro il club e poi tornerà a essere la nazionale. Grazie. Grazie.